Gianni Schicchi e l'Irre Spagnol è la seconda puntata del nostro progetto che nasce con il senso di omaggiare la grande modernità di Puccini. In Gianni Schicchi abbiamo una famiglia numerosissima ma ci lascia un grande senso di vuoto perché sono persone ipocrite, arriviste, che pensano solo al denaro. The visual elements are the palace that we built which is where Gianni Schicchi is playing which was a former rich palace and we just put it into a distracted ruin. There's a big contrast to what the libretto is telling about everything is beautiful and there's this richness, the wealth and the beauty but actually there's no beauty left, it's all ugly and destroyed. Well the pieces are comedies, Gianni Schicchi has a bit more content and I think a society critique than L'Irre Spagnol which has this emancipation of a woman. I mean for its time it was pornography I think. E' chiaro che noi ridiamo ma non è buffo tizio o caio, è buffa la situazione che si viene a creare, in L'Irre Spagnol abbiamo questa donna che sfrutta il giorno in cui il marito va a riparare gli orologi del comune per ricevere i suoi amanti. E' tutto una caricatura e tutta un'ironia e tutta una risata però c'è un grande senso comunque di malinconia. Sempre. But from today's perspective I think Gianni Schicchi is very interesting because you see the unsolidarity of a family which is completely disconnected. I think this connects very well to the contemporary times where people are fighting for themselves and nobody's helping each other anymore because everybody's an enemy everybody's hate and I think this relates good to our times. Grazie a tutti. Grazie a tutti.